quindi la tendenza sarà quella di prendere sempre più autonomia dalle banche non possiamo essere ciechi di fronte a questa possibilità che si sta studiando che è in campo chiaramente ragazzi se ve ne sto parlando è perché queste ipotesi girano nel campo economico dei manager dei social non è che è una mia invenzione sto dando ispirazione a qualcuno il tuo account facebook faccio per dire sto facendo un esempio potrebbe avere collegato un wallet tu hai un conto corrente fisico perché chiaramente si parte sempre da una banca all'inizio dove hai degli euro trasferisci o una carta di credito trasferisci su un wallet su un portafoglio su un exchange il tuo denaro che poi va a finire sul wallet che è dell'account facebook ripeto è un esempio considerate che da poco instagram apre chiudo parentesi sta dando la possibilità di testare ad adidas la possibilità di acquistare direttamente sulla propria piattaforma cosa vuol dire vuol dire che tu quando scorrerai nel tuo cellulare e troverai una pubblicità ok tipo qui parliamo di adidas clicchi e direttamente dall'account instagram avrai la possibilità con tutte le conseguenze del caso quindi dati personali bla 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 di acquistare direttamente da lì immaginate questa opzione di acquisto collegata ad un wallet cioè tu i soldi ce li hai già quindi non hai la necessità di dover collegare quell'acquisto di quella piattaforma ad una carta di credito perché i soldi sono già dentro al sistema e il wallet che hai su instagram è ancora un esempio ora queste sono le ricerche le notizie le tendenze su cui stiamo andando e tu magari puoi vederlo come qualcosa di fantascientifico di non realizzabile in questo momento ma non vederlo soprattutto se ti ritrovi in questo canale a cui ti invito ad iscriverti dove cerco di dare questo tipo di informazioni news sugli sviluppi che anche nella sezione dedicata alla blockchain le criptovalute parliamo di tecnologia quindi degli sviluppi futuri della della gestione del denaro di banche no del cambiamento delle banche e le altre tematiche che puoi andare a vedere quindi iscriviti su questo canale e non si tratta neanche di dire sono d'accordo non sono d'accordo anzi ti chiedo un commento qui qui sotto al video per sapere cosa ne pensi un commento spero costruttivo perché la solita tiritera no dei dati personali della privacy non c'è più ragazzi lo sappiamo cioè non c'è niente io sto utilizzando sto cellulare per registrare sono ben consapevole che a prescindere che io disattivo o non disattivo il google quello che ascolta la mia cucina possono essere quindi andiamo un po' oltre no se vogliamo affrontarlo in una maniera proattiva e cerchiamo di capire cosa può accadere realmente nella gestione del nostro denaro quindi la tendenza sarà quella di prendere sempre più autonomia dalle banche e qual è il punto di forza che fa sì che questa idea si possa concretizzare nel breve periodo innanzitutto dobbiamo dire che un punto di forza c'è un segnale diciamo così ce lo stanno lanciando cosa io quando dico che c'è una sostituzione delle banche forse qualcuno di voi collegherà quindi che le banche sono in crisi collegherà il fatto che il sistema finanziario e di potere verrà superato non ho parlato di grandi fondi di investimento che sono quelli che detengono una parte delle cose delle banche cioè non confondete i fondi di investimento le banche con i poteri bene i grandi fondi di investimento hanno investito scusate il giro di parole tantissimo questo è uno dei punti che sfuggono tantissimo in apple in facebook le banche centrali hanno investito su questi social e perché lo fanno? lo fanno solo per un controllo dei dati della privacy eccetera eccetera lo faranno anche per quello ma quel che prende ancora più forza rispetto all'idea che ti sto lanciando è che non è che sostituendo le banche sostituisco i poteri forti togliendo le banche di mezzo e utilizzando i social per creare veramente un mondo globale dove chiunque ha in mano uno smartphone e non invece ha in mano un conto corrente perché il secondo punto che ti sfugge adesso te lo dico e io controllo questi social quindi ho azioni in google in youtube parlo per dire faccio instagram facebook e così via in automatico sto preparando la strada per sostituire quello che naturalmente sta per accadere che magari ci vorrà anche un po di tempo sostituire quello che è il potere bancario tra virgolette passatemi sto termine che non è corretto o meglio la figura che abbiamo dell'ente banca con un qualcosa che va verso una tendenza nuova di cui adesso ti parlo tieni conto che quasi la metà della popolazione se non di più adesso non ricordo bene i dati anzi se qualcuno di voi se li ricorda me li scrive qui e mi commenta anche rispetto a quello che sto dicendo la metà della popolazione non detiene un conto corrente io capisco che per molti di voi avere un conto corrente sia una cosa normale perché viviamo in italia e anche in italia c'è chi non ce l'ha in europa è normale avere un conto corrente in america avere un conto corrente ma non lo è così normale in altri paesi del mondo in altre nazioni del mondo e invece tutti hanno uno smartphone guarda caso il 5g darà la possibilità che qualsiasi smartphone del mondo sia connesso alla rete ecco qual è un altro punto di forza che vi sfugge che forza vi sfugge questi signori qui non hanno in mano solo la privacy i dati personali adesso è risaputa sta cosa qui non c'è bisogno di andarla a sottolineare no ok hanno la possibilità di inglobare in un sistema diciamo così nuovo bancario quante più persone possibili perché è molto più probabile se andiamo a prendere delle statistiche che ci siano tanti più iscritti nei social di quanti sul mondo posseggono un conto corrente ecco perché ti dico che la tendenza e questo è il terzo punto di osservazione è che i giovani di oggi lasci perdere un attimo gli anziani dai 50 anni in su no i giovani di oggi sono già abituati a sviluppare tutto su questa tecnologia e ricevono pagamenti sul web tramite paypal utilizzano e fanno e stanno aumentando gli acquisti online in buona sostanza stanno prendendo confidenza e quindi fiducia accettazione in un nuovo strumento per pagare ok il collegamento e l'attaccamento al denaro contante o qualcuno adesso è riuscito a fare il salto di qualità sai quasi quasi sta carta di credito non fa proprio schifo è tutta una questione di abitudine bene l'attaccamento al denaro e alla carta di credito ce l'hanno delle persone dai 50 in su ma queste persone cioè l'età avanza non è che te la sto buttando se hai 50 60 anni però verosimilmente la tendenza sarà quella dei giovani che sono già abituati ad entrare in quest'ottica e quindi avere la possibilità di sviluppare un wallet anche solo per chi ha delle banche online cioè non ha il luogo fisico e non ne ha proprio bisogno di recarsi al contrario dell'altra fascia di età che ha bisogno di vedere la struttura allo sportello parlare con qualcuno perché attenzione tutto qui nella testa è tutto psicologia quindi questa probabilità di vedere un social che diventa un wallet ecco se non volete dire banca perché magari vi sembra un po troppo forte come notizia che diventa un portafoglio non è inverosimile se prendi in considerazione la probabilità che ormai ragazzi non ve lo dice francesco o youtuber del giorno ma ve lo dicono tantissimi economisti internazionali e persino italiani che sta per arrivare una crisi finanziaria che non ne sappiamo la portata che avrà e sarà di una portata molto più esplosiva e più forte della crisi del 2008 io vi racconto magari una parte delle motivazioni altri ve le raccontano altre bene ormai la tendenza è che tutti confermano che arriverà una recessione e questa recessione questa crisi finanziaria chi colpirà ragazzi chi colpirà colpirà le banche attenzione ripeto dire che colpisce le banche non vuol dire colpire i poteri finanziari perché sennò non hai capito come funziona il giochetto quando vedi un mio video che parlo delle banche che stanno succedendo delle crisi finanziarie collegate alle banche parlo in considerazione hai i tuoi soldi lo so che non ci puoi credere io guardo solamente interessi individuali il sistema si ristruttura il sistema finanziario intendo ma voglio dirti ancora di più prima che arrivi sta crisi finanziaria secondo me ecco voglio fare una probabilità una previsione scusate futuristica il tavolo è già apparecchiato lo si vede dagli acquisti che fanno le banche centrali delle azioni come movimentano i titoli ad alta tecnologia come ci credono come investono lo si vede dalle movimentazioni dai progetti che stanno nascendo intorno a diversi social tra cui il più potente possiamo dire così che facebook i segnali ci stanno arrivando da tutte le parti e in tutto questo bitcoin coin bene ragazzi io qui dentro e questo voglio fare un video a parte questo farò proprio un video a parte vi parlo di bitcoin e voglio fare proprio un video per farvi capire la differenza tra riserva di valore quella che secondo me diventerà bitcoin e le criptovalute le coin che noi invece potremmo utilizzare in futuro per acquistare nella vita di tutti i giorni e che collegamento possono avere le criptovalute da loro digitale perché bitcoin non ha le caratteristiche per sostituire il dollaro mi sembro ripetitivo ogni volta che lo dico non ha la caratteristica per sostituire l'euro attualmente bitcoin è uno strumento speculativo di investimento che ha una visione giovane meno di dieci poco più di dieci anni e che va vista a lungo periodo è il web 3.0 che secondo me cambierà la struttura delle banche così come le vediamo oggi in fin dei conti quando parliamo di lasciare i nostri soldi in banca parliamo di fiducia ti devi fidare è vero e alla lunga ti fideresti di lasciare i tuoi soldi in una banca che è piena di debiti oppure li lasceresti meglio in una società come apple che in contanti ha più di 200 miliardi di dollari in quale delle due ti sentiresti più sicuro di lasciare guardate quello che è accaduto su binance l'exchange per chi di voi segue questo canale insomma in maniera trasversale sono spariti 7000 btc arrivato a binance sgancio pago se questo fosse accaduto lasciamo perdere se si è giusto o non è giusto ragazzi se questo fosse accaduto ad una banca interviene lo stato a salvare la banca sarebbe stata una cosa incredibile perché non c'hanno una lira sono pieni di debiti ma pian piano la gente la massa inizia a comprendere che le banche sono a rischio e la direzione è verso un cambiamento io qui vi porto dell'informazione vi faccio dei ragionamenti vi porto dei contenuti e poi voi mi fate sapere cosa ne pensate ragazzi come al solito l'invito è quello di iscrivervi a questo canale ci vediamo alla prossima ciao